Amazon sbarca ad Ardea. Il colosso del commercio online ha annunciato l'apertura di un nuovo centro di distribuzione, proprio nella città amministrata da Mario Savarese. Lo stabilimento entrerà in funzione in primavera e la multinazionale di Jeff Bezos ha in programma di assumere, entro tre anni dall'apertura, 200 lavoratori a tempo indeterminato. È già possibile candidarsi sul sito www.lavoraconamazon.it, selezionando la posizione di operatori di magazzino. I dipendenti, grazie alle battaglie condotte da CGL, Cisle e Will, saranno assunti al quinto livello del contratto nazionale del trasporto e della logistica, con un salario di circa 1.600 euro lordi. La struttura, una volta completata, costituirà il terzo centro di distribuzione Amazon nella regione. Questo nuovo investimento ci consente di potenziare la nostra rete di consegne, sottolinea Filippo Fulloni, responsabile del nuovo sito logistico. Quando una grande azienda decide di investire sul territorio, rispettandone le peculiarità e garantendo occupazione, soprattutto giovanile, è sempre la benvenuta, dichiara il sindaco. Il magazzino della Corporation statunitense si aggiungerà dunque ai tre depositi di smistamento situati a Pomezia e ai centri dislocati a Roma, Colleferro e Passo Corese. Sottolinea Filippo Fulloni